Via del Macello e zone limitrofe ancora sotto la lente della polizia e della prima mattinata di oggi gli equipaggi delle volanti, della squadra mobile e del reparto prevenzione crimine sono stati impegnati nei controlli straordinari disposti dal questore di Ferugia Francesco Messina. Ancora una volta nel centro del mirino e gli appartamenti di Via del Macello ma anche di Via Cortonese e Via Mario Angeloni con l'obiettivo di contrasto all'immigrazione clandestina al fenomeno della prostituzione nonché all'attività di spaccio. 42 soggetti controllati, 25 dei quali pregiudicati, sono stati ispezionati uno stabile abbandonato, un albergo e 8 appartamenti, 2 le persone arrestate, entrambe straniere, 2 le denunce e 1 espulsione.